TURN AROUND! Let's see what you see! Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video totalmente unexpected perché abbiamo appena ricevuto qualcosina all'interno della sezione notizie del gioco Guardate qui scorrendo che cosa mi ritrovo Oh mio Dio! 11 è arrivata! Nuova collaborazione di Stranger Things su Fortnite È giunto il momento di spolliciare a manetta e condividere questo video con tutti i vostri amici Ragazzi, un grazie infinito a chi shopperà queste skin con il codico Martex e la tienda TheFortnite Grazie, grazie, grazie a tutti quanti voi Anche a coloro che hanno acquistato il pass battaglia Dopo ben 4 anni, ragazzi, sono passati esattamente 4 anni Chi le aveva shoppate in quel periodo super fortunato e chi purtroppo aveva perso il treno Però raga, eccoci nuovamente qui, questa volta con ben 3 skin E quindi sì Allora, lui dice di dare un'occhiata Ma in realtà lo shop ancora non si è aggiornato Faccio una cosa velocemente prima che il tutto scada Non vorrei che tale skin non ritornasse nel negozio oggetti Quindi vado ad acquistare il mazziere Perché di mazzate nella scorsa season ne ha prese parecchie da parte nostra Andiamo così Vabbè, equipaggiamo E velocissimi perché sta per uscire il bundle di Stranger Things Ragazzi, avete mai guardato questa serie? Chi è il vostro personaggio preferito? Per me, raga, io credo proprio che sia Steve E Dustin, ovviamente, ragazzi, meraviglioso anche lui L'unica cosa che mi fa cringeare enormemente di quella serie tv È che moltissime persone, se non quasi tutto il mondo Abbia scoperto la colonna sonora della storia infinita Tramite Stranger Things Quello sì, mi fa storcere seriamente il nasino 3, 2, 1 Era lo Stranger Things Day Ed eccomele qui, raga Dai, refrescialo Shop, refresciati Codigo Martex, ok, sì Ogni 14 giorni E dai, dai, bro, dai Perché non appaiono, raga? Mannaggia loro Che è successo? Oh! Ma me lo dici così? Fort Mite, me lo dici così? E Vic, che cosa ci conviene qui quest'oggi? Raga, io non dovevo registrare sto video oggi Non dovevo assolutamente Abbiamo Demogorgone ed Hopper Qui sulla destra Capo Hopper che si va Capo Hopper Che si va a distinguere con ben due stili Selezionabili Partiamo da lui, lo so Volete vedere 11? Lo so, lo so, lo so Come già detto Visti per la primissima volta Nella Season 9 Quindi nel lontano luglio 2019 Il Demogorgone è meraviglioso Ma che cosa gli volete dire, raga? È bellissimo Il suo megaventaglio ovviamente si va ad aprire esclusivamente quando eseguiamo delle emoti Io non capisco ma qui secondo me una skin è stata totalmente eliminata O spero vivamente posticipata Perché abbiamo la mazza di Steve E c'ho anche il Funko Pop là dietro Steve with Bat Ma lui dov'è? Ragazzi Dov'è Steve? Dai Tra l'altro tra i file era uscito anche qualcosina riguardo a lui E non me la ritrovo qui Lancia di Eddie Oh Non ci deludere Mi sa che sto piccone però lo farà Vediamo Odio Odio profondamente Questi picconi Almeno l'oscillazione di questi ultimi Ragazzi Sto backpack È fighissimo Allora abbiamo l'upside down qui di fronte a noi Che bello No è carinissima Colazione telecinetica Con i nostri cari Waffle E tra l'altro Come si chiamavano nella serie tv questi Waffle raga Oh mio dio Ma quella era una faccina Era uno smile Allora 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 Abbiamo il bundle di Stranger Things con 11 Dovrebbero esserci entrambi gli stili Sì ma ci sono anche nella versione singola Da 1500 V-Bucks Però senza oggetti Quindi Vediamo prima quella da 1500 Adolescente telecinetica Fuggita dal Dr. Brenner E dal laboratorio nozionale di Hawkins Anteprima stili Abbiamo tre stili Ragazzi ma è già bella arrabbiata qui Non me la sarei mai aspettata 11 in game Ma soprattutto nel capitolo Anzi nella stagione Oggi La stagione a tema capitolo 1 Season che praticamente dicevano Che non sarebbe mai avvenuta nessuna collab In tutto questo periodo E invece raga Prima collab dopo 3-4 giorni Ci siamo Oh mio dio raga Credo che sarà lo stile più utilizzato in tutto il game Non vedo l'ora di spaccare le lobby Vestito da 11 Ragazzi E' meraviglioso sto costume Troppo 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 Il backpack qui Caruccio Caruccio Mancake dove sei Waffle a portar via Ok 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 Quindi un bundle Da 2500 Da 2500 Vi faccio vedere anche il regalo per gli amici Ok E dopodiché la skin singola a 1500 V-Bucks Che prevede solo lei Tre stili e backpack Io direi che per 1000 V-Bucks in più Questo conviene parecchio E soprattutto Ragazzi Io qui alzo le mani Non so quando le rivedremo queste skin Anche perché come abbiamo ben visto Con il Demogorgone E con Hopper Ci hanno messo ben 4 anni A ritornare Voi non potete capire Quanto la community Abbia desiderato In tutto questo tempo Tali skin Andiamo subito ad acquistare 11 Io però so già Quale stile Utilizzerò Secondo voi quale raga Mamma mia Mi date un voto a questa skin Che bello Che bello E' tutto troppo bello Sono sincero Non ci credo Neppure io Questo lo schippo Questo è bellissimo E lo equipaggio La mazza di Steve La equipaggiamo Questa la schippiamo E questa la equipaggiamo Bellissimo Ragazzi Abbiamo l'intero shop Mi sta piacendo Lo stile Quindi come viene strutturato L'item shop Oggi di questa season Una singola riga E pochi item Mi piace Eccola qui Nel nostro menu principale Io però vado a fare subito Una modifica Ed indosso Lei così Ragazzi Mamma mia Proviamo un semplicissimo landing Con 11 E la nostra direzione Sarà Casetta centrale Su Loot lake Raga Ditemi ciò che volete La mappa attuale Sta spaccando Il capitolo 1 Di Fortnite Con questa season Oggi E' meravigliosa Abbiamo raggiunto Un picco Altissimo Di player Online Oltre i 100 Milioni Se non erro In 24 ore Ragazzi Che cosa Han combinato Con questa Cosa Mamma mia Oddio Lo swing E' caruccio Ti devo dire Mi piace Non è ai livelli Ovviamente Di quella che Lascia di Kratos Però Oh raga Ma è bellissima Lei Dai Troppo caruccia Ma ve la immaginate Così a shottare Tutta la lobby Tra l'altro Ma avete notato La prima chest Vado a trovare Degli shieldini Ma c'è qualcosa Che non quadra In questa partita E attenzione Noi andremo Ovviamente Imboscati All'interno Di un cespuglio Un'altra cura Non me la dice giusta Tutto ciò Io ovviamente Sto giocando Con tutti gli effetti Alti Quindi potremmo Fare delle figuracce Durante questo gameplay Anche perché Non sono Abituato A codesta Qualità alta E' meravigliosa Però eh Fatemelo dire Tra l'altro Domandona State giocando Le 0 build Oppure le build Capitolo 1 Raga Ovviamente Con le build Vero Bello Sto miss Uh E tirano un'altra Dai Ok Bellissima Sta skin Raga Non ce la vedo Proprio a killere Gli altri Però Dai 44 44 44 Dai Facciamone Un altro 44 Finalmente Un po' di fight In quel Di loot Lake Vedo già passi Ci sono dei passi Oh mio dio Vai Vai Pistolino mio Pistolino mio Troppo Uuuuh Si è già shieldato Ma vai Omega Si Qualcuno lì si sta Cercando di shieldare Vai Quanto Sono rotte Comunque Ste armi Raga Non servono Guarda, guarda Mamma mia quanto smira sto M4 Bruttissimo Sta andando lì dietro l'albero, dai Ok Ok, vabbè Oddio E lei signora Scania o che cosa vuole fare? Ma, vabbè, questo è un botto Io non capisco l'azione del primo lì che è Non il secondo più che altro Ma che voleva fare? Anziché scappare mi veniva incontro Ok Banana Era una tortura nel 2018 Attraversare Loot Lake E lo è tuttora Oh mio Dio Non voglio più farlo Una cosa di cui mi sono accorto subito Giocando il capitolo 1 di Fortnite Ragazzi, è che Non si può stare Senza uno snipe Ma per davvero Io non ci riesco, ragazzi È più forte di me Perché, boh Gioco sempre Oh, dai Fratello mio Eh, mamma mia Adesso devo mirare bene Aspetta Ok Dicevo Non riesco a stare Senza armi Senza mirino Ragazzi È più forte di me Ma quanto è bello Tornare a raccogliere le mele Dai Mangiucchiarsele così Sotto un bel alberello E farsi tutti gli HP Meraviglie che si sono perse Oh, a passatempi Si stanno macinando Andiamo, andiamo Vado a frullare anch'io qualcosina Non chillatevi però, raga Non chillatevi Aspettate No, dai Non ci posso credere Un secondino Bastava Mannaggia voi Oh, che sta facendo Ma, broda Non ti puoi curare così Dai No, no Mi stanno sparando Da dove Ok L'ho visto Eh sì, infatti ha pushato Vediamo Ok Uh Si sono due qui, fratello La cosa bella è che le persone Rimangono senza vita E men che non si dica Torniamo a curarci con le bende Utilizziamo praticamente item Che non avevamo calcolato Per tutto questo tempo In game, raga Ad esempio Che è mai capitato Di mangiare una banana Su Fortnite Dai Adesso devi farlo Dall'ultima kill Non ho trovato Nessun altro player Sto girando A zonzo Da almeno Dieci minuti Non sto scherzando Forse ci sarà qualcuno What? Ma? Eh Vabbè Ok Devo beccare quello lì Mentre sta fermo A mirare qualcun altro Eccolo lì Con la testolina Per favore Martexo Non mi stare Dai Io cambio fortatile Tanto ne abbiamo tre Ragazzi Abbiamo Una maggiore Uh Eccolo lì Innaggia Primo miss Fatto Ok Tra l'altro Non mi ero neppure accorto Che siano rimasti In tre Vieni qua John Wicko Let's go Mamma mia John Wicko Poverino John Wicko Eh lui Raga Quanto sta camperando Sto qua Eccolo Finalmente Io sono in safe Eh ma quanto ci metto A rompere lo salbero Raga Lol Forse per dopo domani Ce l'abbiamo fatta Dai Vabbè Aspettate Ah Non vorrei spiegare Troppi colpi Dai 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 Ok Dobbiamo farlo impaurire Buono Adesso glielo rompiamo St'albero Raga vedete quanto sono strani Sti gameplay Buono così Oh 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 Ma che sto Ragazzi mi ha tritato No questo è il FAMAS Vedete Perché lo infamo sempre Il FAMAS E giustamente Contro di me Diventa Un item Utilizzabile Andiamo avanti Con queste bellissime medagliette Spero che il gameplay Di undici E quindi Stranger Things Su Fortnite Sia stato di vostro gradimento Datemi un feedback Che riguarda questa skin Direttamente qua sotto Tra i commenti Se ancora non siete iscritti Distruggete il bottoncino rosso E quindi il tasto Iscriviti Siamo prossimi Al milione Oddio Prossimi è un parolone Manca davvero tanto 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 Ma possiamo farcela Fate iscrivere chiunque Al canale Del vostro Martexone A più tardi ragazzi miei Un salutone da parte mia E come sempre un bel Sia brothers Iscriviti Iscriviti Grazie a tutti